Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Ovviamente siamo nel Pixelmon, vi volevo prendere impreparati eh Ti ho visto lì che stavi per scrivere, hai sbagliato eh, rendi sei confuso Invece no, vi stavo mettendo la prova per vedere se eravate attenti E ragazzi, siamo in un bioma floreale, a caso, perché non so neanche dove mi trovo Stavo tipo esplorando a Muzzo Ci sono tante cose a Muzzo in questo video, per esempio anche i miei capelli Oggi non mi va di mettere il cappello, quindi sto così un po' spettinato Prima di fare qualsiasi cosa vi volevo parlare di una roba Allora, vedete che io ho la bellissima tenuta del Team Magma Ecco, di recente è nato il Team Magma, era nato il Team Idro, ci sono stati degli avvicendamenti E attenzione, attenzione, questa cosa è tutta trama Questa cosa è fatta per divertirsi Per cui devo chiedere ad alcuni commentatori che forse vengono da me e poi vanno su altri canali Di non comportarsi come i peggiori hooligan della storia E di non insultare le persone, perché stiamo solamente facendo una serie Siamo tutti amici, però cerchiamo di creare queste rivalità sane Per divertirci e fare video interessanti e diversi dal solito Perché ci piace fare cose un po' interessanti ogni tanto Ma ragazzi, veniamo noi e veniamo al fulcro della puntata Allora, prendiamo il PC Il PC lo mettiamo qua sotto E mi vado a prendere, le avevo messe un attimino qui Tre uova Queste tre uova le ho create Con la nostra, ovviamente, zona, diciamo, di accoppiamento Pokémon In cui al momento abbiamo Posso vederlo dal PC? Fatemi vedere Yes, possiamo vedere il nostro ditto Che è un ditto di dimensioni enormi E abbiamo un Whalmer femmina Che è di dimensioni enormi E vi faccio vedere dalle statistiche Credo no? Sì, dalle statistiche Mi è stato donato da Matteo Fire Quindi Matteo me l'ha regalato Per aiutarmi a risparmiare tempo Dato che sto provando a creare il Whalmer G-Normus Che credo in italiano sia tipo giga enorme Non ne sono esattamente sicuro Ma spero di scoprirlo in questa puntata Come funziona la cosa? Allora, ho utilizzato il mio ditto enorme Enorme è la taglia più grande nel gioco Non ottenibile dalle uova Vale a dire, la taglia giga enorme O la taglia microscopica, che è quella più piccola Sono ottenibili solo tramite accoppiamento Ma per fare ciò Devi avere due Pokémon genitori Entrambi enormi Quindi io non avevo ancora un Whalmer enorme Ci stavo lavorando Adesso ce l'abbiamo Una volta avuti due genitori enormi Hai una possibilità su tre Che nell'uovo ti esca il Pokémon Giga enorme Quindi ragazzi Abbiamo tre uova Come vedete sono tutte vicine alla schiusura Dove sta scritto It appears to move occasionally It may be close to etching Ok Siamo vicini alla schiusura Come avete visto il gioco però è in inglese No, è in italiano Quindi perché lì me lo dà in inglese? Speriamo in bene ragazzi Intanto esploriamo un po' E magari cerchiamo qualche tesoro nascosto Dovrebbero nascere tutti e tre insieme Tra l'altro Incrociamo le dita Dai che troviamo un altro orbo Una Master Ball Un messaggio Libec Cos'è? Libeccio? Non lo so Vabbè Comunque è uno stupido messaggio Ma ce n'è un altro Attenzione Boom Un'erba chiara Wow Utile Grazie Grazie mille Davvero Non dovevi A quanto pare la schiusura delle uova Dipende anche dalla specie del Pokémon E credo che Whalmer O Whalord A seconda del genitore Sia molto difficile da ottenere Cioè ci voglia davvero un sacco di tempo Almeno questo l'ho notato Considerate che noi abbiamo Volcarona Che con il suo potere Corpo di fuoco Ci permette di tipo dimezzare Il tempo richiesto per schiudere le uova Eppure ci vuole comunque tanto E ragazzi Troveremo una Master Ball Tecnicamente questa è una Master Ball Però quello che ci interessa È al suo interno Una Stola scelta E che bello il tramonto Sulla Pixelmon Ragazzi È davvero bellissimo Intanto noi Svolazziamo Soprò queste montagne Raggiungiamo un'altra foresta Per continuare La nostra ricerca di loot E voi direte Cos'altro vuoi Eri Hai passato ormai Quattro orb Praticamente E tre Master Ball Però cavoli Una Master Ball extra Per un Papabile Articuno futuro Non sarebbe così male Quindi senza nessuna fretta Si intende Però ogni tanto Magari qualche loot Lo apriamo Non si sa mai Oddio raga Ero distrattissimo Noi non ci speravo più Siamo a 24 minuti di rec E i tre Whalmer Si sono Schiusi Cioè le tre uova di Whalmer Si sono schiose all'istante Dato che le avevo Prelevate tutte e tre insieme Per l'appunto Quindi tutte e tre insieme Ragazzi Niente Speriamo che ci sia La taglia che stiamo cercando Perché se no Balza tutto È stata davvero Una cosa lunghissima Quindi vai col primo È enorme Perlomeno Essendo enorme maschio Potremmo sostituire Ditto Nell'allevamento Mettere lui E avere maschio e femmine Enormi E produrre uova Più velocemente Magari costruiremo Un ranch block Alternativo Dove ci mettiamo Ditto Con il nostro Typhlusion Per l'antico progetto Di fare Il figlio di Typhlusion Perché no Ma vediamo gli altri Ragazzi Mi sembra di fare Uno spacchettamento In questo momento Vai Enorme ancora E enorme ancora Ma non è possibile Raga Tre Wilmer maschi Tutti enormi Tutti Uguali Probabilmente vedremo Per la prossima puntata A questo punto Ma lasciamo qui Un bel waypoint Con nomi a caso Rigorosamente Cancelliamo quello precedente Per chi non l'avesse notato Sono arrivato A 300.000 blocchi Di distanza Adesso Ho fatto tipo Un giretto Una sorta di Inversione Spostandomi lateralmente Di qualche migliaio Di blocchi E sto tornando indietro Verso lo spawn Per non andare Troppo Troppo lontano Anche se 300.000 blocchi Già di per sé Sono tanti Quindi A questo punto Sposta questi Stupidi Wilmer Metti uno a caso Dei Wilmer Proprio uno Randomicissimo Lo mettiamo qui E lo andremo a mettere Guardate quanti Wilmer ho già fatto Ragazzi È tremenda come cosa E qui Invece Andiamo a ritirare L'uovo Ok Perché ci avevamo già fatto Un altro uovo E poi gestisci i Pokémon Togli ditto In teoria Ok E metti quest'altro Wilmer Il ranch block Deve essere puramente Di tipo acqua Quindi non ci serve più La lana bianca Che era in rappresentanza Del tipo normale O di tipo neutro Che dir si voglia Quello che potrei fare Invece io A questo punto È capire Da che parte Potrebbe convenire Scavare E questo qui Lo piazzeremo Al centro esatto Gestisci i Pokémon E ci inseriamo Tiflugeon Ed Bene ragazzi Il procedimento Di allevamento Pokémon Sta procedendo Il cazzo appena detto Procedimento che procede È stato un gioco di parole Pessimo Ci stiamo lavorando Ok Non è semplice L'avete visto Ci sto prendendo Un sacco di tempo E vediamo adesso Alle prossime uova Magari cercherò Di schiuderne Anche un po' Fuori dai video E di vedere Se appunto Mi esce qualcosa Così poi Nel video Rimaniamo Sulla parte Di allenamento Per trasformare Il Weimer In un Weylord E quindi Il Pokémon più grande Mai visto Ragazzi Ho riattaccato La Rack Sono qui Tutto disordinato Ho messo al volo Il cappello Mi sono preparato Al volo Perché Dopo aver chiuso Il video Mi sono arreso E ho provato Un altro uovo Ragazzi Esattamente Pochi secondi fa Questo uovo Che mi stavo covando Andando in giro Mentre ascoltavo La DPG Forse è stata quella A fare un effetto Un po' strano Come vedete Il tuo uovo Si è schiuso In un Weylmer E finalmente Ragazzi Guardate qui Giga Enorme Ce l'abbiamo fatta La taglia più grande Per un Pokémon Sono curiosissimo Di vedere com'è Quindi buttiamolo fuori Beh ragazzi È nella sua forma base Ed è già grande come me Quindi direi che ci siamo Ora ragazzi Ovviamente non è finita Anzi Siamo praticamente All'inizio Saremo ad allenare Al volo Weylmer Per portarle al livello 40 E farle evolvere Nel Weylord Giga enorme Ragazzi c'è un Tyrannitar Al 74 Direi che può essere Utile per cominciare Wow Con oltraggio L'abbiamo praticamente Shottato E Weylmer Va su direttamente al 13 Ottimo Direi che un bel boss Leggendario Fa il caso nostro In questo caso E potremmo provare A fare la furbata Sperando che non attacchi Weylmer Lui morirà Perfetto Di bruciatura Quindi tutta l'esperienza Va al buon Weylmer Che in questo modo Sale parecchio Aspetta Rotola Idropulsar Idropulsar Togliamo Pistola acqua Troviamo un po' Di roba inutile Come al solito A noi con i boss Non va mai bene E a dire la verità Forse ce la caviamo Anche con le mele d'oro Perché qui ne ho 4 Ci serve la glowstone Questa via Abbiamo altre mele Non dorate Che avevo appena visto Ah qui le avevo messe E poi abbiamo Queste mele d'oro Qui Per un totale Di 14 mele d'oro Tra l'altro avete visto Un attimo Questo scalpello È un oggetto molto utile Che servirà per fare le statue Ve lo farò vedere Prossimamente In più qui abbiamo 5 caramelle rare E credo Basti così Glowstone L'abbiamo Mi servirà Un bel po' Di zucchero E mi serve Di fare qualche altro livello Quindi andiamo Nel bioma Delle 3 torri Magari ci spano Qualche boss a caso No Ok Vabbè Finiteci Ci speravo Per un attimo Ci diamo ancora Qualche pokemon Facciamo fare un altro livello Almeno a Wailmer Intanto prendiamo Le canne di bambù Bene Ringraziamo un allenatore Random Che ho appena incontrato E ci ha serviti bene Vediamo questo qui Livello 40 Ma ci risparmiamo anche Magari una caramella rara o due Shottando i suoi pokemon Qui dietro mi ricordavo bene Qualcuno ha messo a farmare Delle canne di bambù Ma non vengono mai toccate Quindi mi sa Che ne farò a buon uso E a dirla tutta Io stesso mi ero messo a farmare Le canne di bambù Qua dietro casa Infatti guardate qui quante Va bene Prendiamocele Quindi ragazzi In definitiva Ci serve Dello zucchero Lo zucchero Lo otteniamo così E ce ne servirà Esattamente 17 pezzi Quindi facciamo Prendiamo quindi Le mele E ne dobbiamo fare Altre 12 Quindi facciamo così Mettiamo Non era 17 pezzi Erano 12 Effettivamente Comunque ci craftiamo Altre mele rare Per un totale di 17 Ora facciamo uscire Il nostro bellissimo Wailmer E iniziamo a dargli Un sacco da mangiare Affinché lui divenga Super ciccione Acqua di sale E ragazzi Livello 40 Che cosa succede? Il tuo Wailmer Si sta evolvendo In un Wailord Finalmente ci siamo Sono iper in hype Per questa cosa Finalmente ragazzi Guardate Guardate che sta crescendo Una cosa enorme là sotto E detto così E strainquitante Oddio 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 raga Ha invaso lo schermo Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Non ci sta dentro la Non ci sta dentro la cantina Ma che cos'è? Oh mio dio Oh mio dio Sto abitando La casa mia è dentro Una balena Ragazzi mi sto sentendo Tanto Pinocchio In questo momento Facciamolo un attimo Ritirare Ragazzi Wailord Giga enorme Non so bene Dove farvelo vedere Quindi andiamo Al Poki Center Magari Questo è un Poki Center Siete fottutamente pronti E questo qui È Wailord Giga enorme Il Pokémon Più grosso Mai visto È più grosso Di tutta la Pixelmon Porca puttana Oh mio dio Oh mio dio Ma mi sta seguendo Che fa? Oh mio dio mi segue Mi inquieta Mi inquieta un botto Oh mio dio Lanciamolo Tipo tra le due case Porca Eva Ragazzi Che cazzo di siluro è È impressionante Va bene ragazzi Abbiamo completato Una missione Che è stata difficilissima Molto più del previsto Ma che ci ha portato Ad avere Il Pokémon Più ignorante Della storia Una cosa Davvero Giga enorme In tutti i sensi È È molto affettuoso Questo Wailord Tant'è che mi sta mangiando Comunque ragazzi Da dentro Wailord Che Madonna ragazzi Quanto è Ragazzo è grosso Io spero che metterete Tanti like Per questo video Che è stato difficilissimo Da portare Almeno tanti Quanti La grandezza Di Wailord Quindi ragazzi Io vi saluto Un saluto Da Eren Blaze Sempre che voi Mi vedete ancora Ciao a tutti